La Natica del Porto è una parte della nostra industria e una parte del nostro orgoglio sulla Natica del Porto noi possiamo dire che siamo i primi al mondo è una cosa importantissima per la nostra economia per il nostro modo di vivere e per il legame che abbiamo noi come città al mare la Natica del Porto deve diventare una parte trainante della Blue Economy che è una parte trainante della nostra città Genova nel campo della Blue Economy ha tantissimo da dire e avrà tantissimo da dire del futuro per cui noi candidiamo Genova a essere il centro di competenza della Blue Economy sia a livello nazionale che a livello europeo Come sindaco e come marinaio com'è il vento per questo salone? È un grande vento un vento che ci serve un vento che va nella direzione giusta ed è il vento della continuazione della crescita di Genova nonostante la tragedia nonostante quello che è successo continuiamo a crescere continuiamo ad andare avanti la città è sempre più bella È stata una mattinata emozionante Sì direi emozionante anche tutti sono tutti concordi sul fatto che Genova è una grande città e che sarà un grande salone quindi sarà un bel evento per tutti Ricordiamoci che il salone è anche un esempio di essere italiani il salone è una grande cosa per l'Italia stessa è l'industria anche come dicevo prima dell'Italia non soltanto di Genova e dell'Alguria e quindi è una parte importante per tutta la nostra nazione la nazione vince la nazione vincerà ma lo farà se Genova vince e Genova vincerà e questo ne sono assolutamente convinto quindi dico buon vento a tutti buon vento al salone e se assentemelo dire buon vento ai genovesi grazie a tutti